quando fa la matta quando fa la matta dimmi filippo donna donna no no luca jolly jolly no riccardo 2 no filippo cuori cuori no gianni scala 40 scala 40 no giulio blackjack blackjack no però capito che il mondo è quello delle carte antonio joker joker detto prima jolly però poteva essere joker giustamente ma non è filippo affari tuoi affari tuoi no quando fa la matta sul tavolo dimmi filippo ballerina no la matta sul tavolo no giulio donna di cuori donna di cuori no gianni trottola no quando fa la matta sul tavolo filippo suocera certo che se la suocera sale sul tavolo sono dolori eh no quando fa la matta sul tavolo riccardo pinella no antonio giulare no quando fa la matta sul tavolo giulio moglie no in crisi di identità perché a 7 e mezzo dimmi filippo niente perché a 7 e mezzo antonio figura no perché a 7 e mezzo filippo donna di cuori no perché a 7 e mezzo giulio sballato no perché a 7 e mezzo luca regina no No perché a sette e mezzo Filippo Banco No perché a sette e mezzo Riccardo No perché a sette e mezzo Luca Pigliatutto Perché a sette e mezzo può avere qualunque valore Dimmi Giulio No ma di muori No No Filippo Figura No Luca Bonus No Antonio Re No Gianni Sette No Filippo Carta No Si sta dicendo Riccardo No lasso a sette e mezzo Qualunque puo Antonio Pante No a sette e mezzo avete giocato a sette e mezzo Denari No Giulio Queen Queen No Filippo Dama No Filippo Dama di cuori No 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 Luca Fermi Che sto qua fino alle dieci di sera se non me lo dicono Sostituto Sostituto No a sette e mezzo può avere qualunque valore Antonio Asso No Ma come lasso Giulio Q Ma che Q dici No A sette e mezzo Luca No Giocata a sette e mezzo è la carta che ha qualunque valore Antonio Qual è la carta che ha qualsiasi valore al gioco del sette e mezzo Filippo La matta No Riccardo è matta si Sette No quella sette vale ma ce n'è una che vale qualsiasi cosa Gianni Non il due Non il due Non il due Tre Eh Tre Tre no vi prego Cioè ve lo chiedo in ginocchio Io ve lo chiedo in ginocchio Ditemi Qual è la carta Che vale Fermi La carta che vale Allora E' la prima volta che l'abbiamo svelata tutte e non l'abbiamo capita Allora Sette e mezzo La carta che vale Qualsiasi Che matta certo ma che vale qualsiasi punto Filippo Regina No No niente No Filippo No No Sono finite le carte Giulio La regina di quadri No No Luca Regina di picche No Filippo Regina di cuori No La carta Giulio La regina di fiori No Sono di bastoni No Ragazzi mi prego Allora Avete giocato a sette e mezzo Sì Allora Filippo Ok Cos'è Regina russa No È il marito della regina Avanti Luca No Antonio Non basta dire re Re di cuori No Non è il re di cuori Luca Re di picche Non è il re di picche Antonio Re di quadri No Non è il re di cuori Luca Re di bastoni Non è il re di bastoni Filippo Re di denari Re di roccia Filippo Vieni 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 In piedi Il pubblogo in piedi Ha trovato La carità Filippo Ve lo lascio E ci vediamo Tra poco Correzione